ciao ragazzi benvenuti nella mia morning routine come potete vedere mi sto svegliando e per me è sempre un trauma svegliarmi la mattina una volta alzata la prima cosa che faccio è aprire la finestra per far arieggiare la stanza faccio così in tutte le stanze ragazze poi vado a prepararmi la colazione questa mattina mi sono preparata latte cereali ora lavo tazze e pentole che abbiamo usato così da lasciare tutto in ordine ok grazie a tutti e ora eccomi in bagno inizio lavandomi i denti ed il viso e ora passiamo ai prodotti che sto utilizzando in questo periodo inizio applicando il tonico con un dischetto di cotone questo è quello all'aloe vera e tè verde della viviverde cop poi applico il ziero che è di omia all'olio di argan poi passo al contorno occhi che è di sephora e anche questo ottimo prodotto che utilizzo al mattino e alla sera dopodiché utilizzo la crema viso quella che applico sempre al mattino e alla sera ed è di neutrogena una volta finita la skin care passo in camera e faccio il letto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti se volete un video su come mi trucco e che cosa utilizzo per truccarmi scrivetemelo giù nei commenti grazie a tutti grazie a tutti ora passo ai capelli oggi ho deciso di fare i boccoli con la piastra grazie a tutti e alla fine vado ad applicare l'olio per idratare le punte ed eccomi pronta per uscire ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mettete un pollice in su per farmi capire che il video vi è piaciuto così ne farò altri simili e vi invito ad iscrivervi al canale così non mi perderete i prossimi video vi mando un bacio e buona giornata ciao grazie a tutti grazie a tutti